Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della nostra Ulisse Crafty Se siete partiti su queste puntate, vabbè, posso perdonarvi Allora, prima di iniziare il video, ragazzi, devo fare una cosa abbastanza importante e necessaria Ed è craftare 2 del 64, presumo... Ma sì, penso di sì No, ma in realtà potrebbe fare 3 da 16 Ma se facciamo 3 da 16, che tanto ci troviamo il pensiero Ok, 3 da 16, ragazzi miei In realtà un po' spostiamo anche il nostro telefono che è qui impegnato a caricarsi Perché ovviamente ha bisogno di caricarsi Sì, eccoli qua, craftiamo 3 da 16 E dobbiamo fare qualcosa di interessante oggi Prima di tutto, controlliamo come va la nostra farm di energia E però dormiamo Anzi, mi avete consigliato una cosa mortante, ragazzi Devo prendere un attimo una leva Ok Mi avete detto che il nostro Sandial funziona a redstone Questo non lo sapevo, ovviamente Non potevo, quindi farò funzionare Ma, hey, adesso funziona Infatti se mettiamo, rompiamo qua, per esempio Ok A posto E facciamo così Ok, presumo Abbiamo fatto una cosa bella Sta cosa è strafiga comunque E no, in realtà non ha fatto nulla Non so cosa funziona qui sulla terra, sapete? Aspettate, ma se noi proviamo Cioè la terra sulla luna intendevo Se noi proviamo a staccarlo e attaccarlo Vediamo un po' che succede Tipo mettiamolo sopra così lo trolliamo Diciamo, facciamo un breve test Vediamo un po' come funziona Prima di tutto Comunque ho levato quelle ceste Ricordate quelle ceste che sono lì Non ci sono più ora E vediamo un po' Dov'è il sole? Mi sa che non funziona ragazzi, eh Fa un rumore tremendo Mio Dio, aspettate Dove sta? Allora, fa un rumore tremendo Però in realtà mi sa che non funziona E' vero comunque che Per far passare una notte qui Ci vuole molto più tempo Quindi vabbè Può darsi che sta funzionando Però non del tutto E vediamo No, niente Non passa la notte Mi sa che non funziona per questo mondo Sapete? E' un po' bruttina questa cosa Perché in effetti Potevo utilizzare questo metodo Utilmente Invece no Non funziona Peccato, peccato, peccato davvero Ok, ha salato questo Finalmente possiamo andare avanti Stavamo dicendo ragazzi Dobbiamo andare A vedere Il nostro impianto di app Devo vedere un attimo Più o meno A che punto sta Ho tipo Visto ieri sera Dopo un paio di ore Tipo tre ore E aveva prodotto Almeno tipo 40 milioni Comunque E' un buon punto Alla fine ragazzi Però Voglio vedere Se riusciamo A farci un po' di soldi Soldi Insomma capite Energia un po' di più Ora Non sto ancora facendo nulla In automatico Però penso di farlo Nel prossimo futuro E se non sbaglio Dovrei avere anche abbastanza Yellorum Vedete Lo Yellorum Saranno avanti Quindi ok Funziona sta cosa Di far andare lo Yellorum Avanti Leviamo un attimo Questa cosa Se no Mi ho buttato Adosso E controlliamo Scendendo Di qua Ho fatto già Dei buchi sotto Così posso andare A controllare Senza troppi problemi Insomma E vediamo un po' Nemmeno uno Ah è giusto Perché ho lasciato Il server chiuso Ok E in effetti Non mi ha prodotto Molto E' un po' Una cacca Sta cosa Sì infatti Non Non ha fatto quasi nulla Oddio no Ah mi ha preso Il backup Come mai mi ha preso Il backup Ok mi ha preso Il backup Non capisco Il perché Di questa cosa Ah ah Perché questa parte L'avevo fatta Non aveva salvato Non capisco Il perché Stia andando così Va bene Questo lo scopriremo Comunque Ah no mi sa che qui Proprio non l'ho messo Ah ok No no scherzavo Niente backup Sicuramente ci ho messo Un po' di tempo E ovviamente mi sa Che ho lasciato Il server chiuso O comunque me l'hanno chiuso Poi me l'hanno riaperto E non ha farmato nulla Va bene Comunque Stanzialmente mi ha farmato Un po' di roba E sta andando molto bene Come farm Però qualcosa di meglio Si potrebbe comunque fare Ora ci serve un fill Ragazzi miei Bello grande Ok Mi serviranno poi Del marker E un posto Dove fare La nostra roba Mi sa che i marker O ce li ho qui dentro O poi li ho persi E mi sa tanto Che li ho persi Perfetto Mi sono dei marker Aspettate Allora ragazzi miei Con i marker plus Dobbiamo andare a fare cose belle Una di queste cose belle Finalmente Iniziare Il nostro Secondo Mega progetto Che va fatto Sicuramente qua vicino Ora Non credo di avere problemi Se faccio di qui La roba Vero Ma credo di no E dovrò tipo Rompere più o meno Di qui Fino Non so Di uno Di due magari E no Però ovviamente Deve essere più grande Vabbè Facciamo adesso così Facciamo In questo modo Ok Questo è Quanto è 165 Giusto Ok Devo andare fino A 165 99 Lo possiamo fare pure il 100% Sinceramente Facciamolo Quanto è Bella domanda Vediamo un po' Ok ragazzi Ho fatto tutta questa roba Qui vicino Guardate che bella Che strafiga Ok E devo dare tanta energia Adesso al filler Per poter distruggere un po' Tutto È bello grande Sinceramente Comunque deve contenere Un bel po' di roba Ora vi faccio vedere Che è passata anche una giornata In realtà tipo Sto registrando questo video In un paio di giorni Perché Perché ho un paio di video Già pre-registrati Quindi non volevo fare troppa roba E Se noi scendiamo Magari non laggando Perché abbiamo appena aperto Minecraft E cerchiamo di trovare Un bel teseract Cosa Probabile che non ho Vero Non ce l'ho Bella merda Ok Facciamo vita che ci sia un teseract Va bene Potremmo tranquillamente Fare tante cose belle Vedete che mi è venuta Un'idea in mente Un'idea abbastanza carina Ma lo sapete Che questi due cose Sono uguali In realtà Non ho bisogno Di fare la stessa cosa insieme In realtà si dal certo punto di vista Sì perché così facciamo Più velocemente la roba Però E' un po' stupida Come idea Nel senso potevo fare Stanto un impianto E tipo utilizzarli Uno Per farne due Vabbè dettagli Comunque mi serve un teseract E non so dove trovarlo Quindi cosa facciamo Cerchiamo un teseract Magari ce l'ho qui dentro Cosa probabile E invece Manco per il cavolo Ok Teseract on Ragazzi abbiamo un piccolo problema In realtà non capisco Da cosa sia di peso E non riusciamo A far entrare la roba Qui dentro Aspetta un secondo Ma io dovrei avere Un inscriber Inscriber Non ce l'ho Vabbè rompiamone uno Insomma Abbiamo capito Ok Le va questo Perfetto Vediamo un po' Perché il diamine non funziona Questo è l'engineering L'engineering Va col diamante Se non sbaglio Quindi un po' di diamanti Ok Vediamo un po' Dove ficca il diamante Al lato Ovviamente Mi sembra giusto Ok Ora perché non va al lato Giustamente Pattern Ovviamente con un diamine Fra un printed Giusto? Sì È giusto ragazzi Perché il diamine non arriva la roba? Non ho la mia idea È logica nemmeno sta andando Non vorrei che Fossero tipo separati In realtà dovrebbe essere qui dentro Tipo dovrebbe starci la roba Perché sta facendo tipo questa roba Questo coso non va Avanti Mmm Devo capire Aspetta un secondo Proviamo un attimo a disattivare Sta roba qui Facciamo un cancel Ok Cosa facciamo adesso? Ah ok sta craftando uno di quelle Ok E provo un attimo a farli craftare Un processor standard Quello piccolino Insomma avete capito Ok processor vai Next Eh start Start Eh porca caca Se la ammetti di farmi quelle robe Ok start Dovrebbe andare No invece non va Oh bel problema Bel problema Perché diamine non vai? E in realtà dovrebbe andare al centro Ed è giusto Ok Cioè si dal lato dovrebbe andare al centro Credo Mmm Proviamo un attimo a fare una cosa Vediamo un po' Forse un problema logistico Potrebbe essere creato Dal fatto che questo Interface Tipo funzioni in modo strano Proviamo a fare tipo in questo modo Per trasformarlo In bus Ok Facciamolo qui Mettiamolo E ci mettiamo Un cable Qualsiasi Tanto infine non credo sia un problema Cable Andiamo con gli smart Va bene Gli smarti Se no in realtà gli smart normali Ok vediamo un po' Qui mi hanno detto che cosa Ci andava questo Ovviamente Vediamo se va Dovrebbe funzionare senza Channel No che si Ci senti funziona comunque col channel Ma non va Mmm Come mai non vai? Non vorrei che fosse da un altro lato Cosa probabile In effetti Vediamo un po' No Stored 1 Scheduled questo Ah no Vuoi vedere che abbiamo Abbiamo il print da manetta Si abbiamo il print da manetta Ma non funziona questo Ah che padre ragazzi Una volta che giustavo sto coso Si bloccava sempre Perché Perché probabilmente Uno di questo Non riesce a craftare la roba E so anche qual è Ragazzi miei Qua No Perché non va? Scusami Ehm Non abbiamo il silicon vero? Ok Infatti No abbiamo il silicon Ok E perché non mi crafta sta roba? Mmm 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 Quale problema hai? Aspettate che risolviamo questo problema prima Non so da cosa fosse di peso Però presumo che sia lo stesso problema di qua Ovvero il fatto di Blocchi causati dal silicon Non so perché dal silicon Non ho un bel po' di tempo Stavano sto problema Devo ben capire Da cosa sia di peso Ah raga Poi lo scopriamo Nel frattempo comunque Questa è stata a posto Cioè Nessun problema Da quel punto di vista Funzionava tutto Ok E ah Avete consigliato una cosa ragazzi Leverò questi reactor glass Che potrebbero laggare In effetti Faccio poche fps Quindi devo scoprire bene Se è questo il problema Oppure no Ma lo scopriremo presto Tranquilli Per il momento Stavamo dicendo Ci serviva un tesseract Vero? Sì Andiamo faccio il tesseract Bene Bene l'ho fatto Scusatemi se è esibitato Molte volte tipo Ok o bene Ma quando tipo Spengo una parte di video Mi viene tipo Non so Stranamente voglia di dire Ok 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 Lo so che sono stupido A dire sempre ok Ma cercherò di non farlo Va bene Facciamo così Una piccola promessa Allora qui devo impostare Ovviamente il fatto di Non fill No fill in realtà Cioè non proprio Devo fare Clear Ok E leviamo adesso Col tesseract Tutto quanto Impostiamo Energia a muzzo in realtà Sì Molto tranquillamente Receive only Perfetto Dovrebbe aver giustato tutto Credo E dovrebbe star distruggendo Un po' tutto Non so se lo sta facendo Non credo Sapete Però Non ne ho la mia idea Ah Come faccio a vedere Se lo sta facendo pure no Mmm Non lo so Bella domanda Ok forse ho un'idea Ho una piccola idea Ok per sbaglio Aveva rotto Tipo quest'altro coso Non so perché Ma adesso sta funzionando Decentemente Quindi sta distruggendo Un po' tutta questa base E poi questa la useremo Per piotterci Piazzare Il nostro robot Ricordate quello Che abbiamo fatto Su questa puntata Presumo di sì Ora Stavo dicendo All'inizio del video Che è passato Un po' di tempo Dalla Corsa parte Insomma In cui avevo Ricominciato Insomma La parte del video Insomma Ora Non so bene Quanto sia passato Però è passato un po' Sperate che prende un po' D'ossigeno Ed essendo passato Un po' di tempo Dovrei Aver craftato Qualcosa Ovviamente Ho dovuto tenere Il server un po' spento Quindi non è che mi aspetti Chissà quali gran cose Però Almeno tipo Una decina Una ventina Di redmette Dove avevano fatto Tipo nella notte Anche se No in effetti Non credo Che l'avrebbero fatte Sapete Perché ho tenuto Il server spento Dopo quando C'è dopo pochissimo Che avevo spento la registrazione Vabbè Non mi sta facendo tantissimi Però vi giuro Che adesso rimarrà acceso Per tipo Due o tre notti Tranquillamente Per poi perempire Pian piano Il piccolo amichetto Che stiamo preparando Un po' tutto Quindi Ehi Per adesso lascia così Nel tempo Il nostro Nostro Gielorum Stanno abbastanza decentemente Molto bene Insomma avanti Quindi non ci possiamo lamentare Da quel punto di vista E per il momento Abbiamo tutto il necessario Pronto e preparato Ora ci rimane D'aspettare solamente Che finisca di rompere Un po' tutto lì Ovviamente si ferma Fino qui Quindi finito qui Ragazzi Vedremo tipo Un buco gigantesco E come vedete Sta buttando via Un bel po' di roba Quindi dovrà rompere Un bel po' di cose Ma ci vorrà qualche Almeno una nottata Penso ci vorrà Perché è un bel po' di roba Ragazzi Noi ci vediamo Nella prossima nottata Come sempre Vi ringrazio Per stati qui con me In questo episodio Le vero a questi Reactor Glass Sinceramente Stavo pensando Di utilizzare Altro tipo di glass E tipo Dovrei riuscire A craftarne tipo Una 200-300 Qua Ok E utilizzare Cosa potrei utilizzare Come glass Incienamente Non lo so Però dovrebbe esserci Qualche glass carino E bello Sempre se riusciamo In qualche modo A cuocere la roba Qui A macerarla Bella domanda Non ho idea Perché tipo Dovrebbe avere prima la cobblestone Mi sa E si sa che sta togliendo La cobblestone E la sta macerando Forse E non lo so Glass Vabbè Lo farà in off camera Magari possiamo usare Direttamente il tablet Facciamo un po' di glass Sapete Glass Vediamo un po' Forse non l'ho messo nemmeno No ce l'ho Ce l'ho Perfetto Un po' di glass E andando qui Ragazzi miei Possiamo vedere Che tipo di glass Potrei mettere lì Per esempio Ci starebbe tantissimo Questo per esempio Lo steel glass Che Diciamo Ha un effetto Abbastanza carino Qui sopra Quindi ci potrebbe anche stare Per esempio Mettiamolo qua Abbiamo qui Ok E mettiamo questo glass Che ovviamente Si unisce come l'altro E fa così Vabbè Sì Diciamo che Ci potrebbe anche stare Vabbè In ogni caso Conoscete la La cheese Quindi magari Inconsigliate qualcosa Anche voi Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Da lì sia tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.